Raggiungere risultati eccezionali nella vita o nel lavoro si può, anche grazie ai consigli di chi ce l'ha già fatta. Martino Uzzauto, esperto in strategia d'impresa, ha incontrato e intervistato per voi i più importanti manager e imprenditori italiani. Ne è nato Protagonisti, un libro che raccoglie tutti i loro consigli, i loro segreti e le loro strategie per diventare i numeri uno e raggiungere il successo. Martino Uzzauto, Protagonisti, in tutte le librerie e su Amazon.